È una norma che abbiamo presentato io e Silvio Paolucci che riguarda i precari della ASL, quindi del Servizio Sanitario Regionale, a cui si applicherà la norma Madia che prevede la stabilizzazione per mezzo di concorso riservato nella misura del 50% per tutte quelle persone che hanno fatto un contratto a tempo determinato per almeno tre anni negli ultimi otto. È una norma molto importante perché permette la stabilizzazione di tante persone che da anni lavorano nel mondo della sanità, ma è una norma molto importante anche per la Regione Abruzzo perché consente di mettere a regime tante professionalità esperienziali che si sono maturate nel corso di questi anni. Andremo fino in fondo per questa battaglia che è un sacrosanto diritto per quanto riguarda i lavoratori e dovere della Regione, salvaguardare le maestranze, la loro esperienza, portano avanti interi reparti e tantissimi servizi. Il nostro obiettivo è, dopo la sentenza della Corte Costituzionale per la Regione Lazio, è affiancare i lavoratori sostenendoli in un percorso di riconoscimento della loro esperienza per poter mettere in campo risorse fresche dal punto di vista della stabilizzazione ma con esperienza perché lavorano da oltre dieci anni tanti di loro già dentro i nostri ospedali avvolti in condizioni umilianti. Ecco perché il PD andrà fino in fondo. Martedì prossimo è l'ora della verità, ci sarà la Giunta regionale e l'assessore alla sanità. Presto, entro fine mese, porteremo la legge ad essere approvata dal Consiglio regionale.